Si fa sempre più folto il gruppo di pretendenti repubblicani e la Casa Bianca si candida anche il governatore del New Jersey, Chris Christie, 52 anni. Questo paese deve tornare a lavorare assieme, ha affermato Christie, dal liceo di Livingston dove ha studiato. È il 14esimo repubblicano a correre per le primarie del partito.